Musica Con le voci di sottofondo, buongiorno a tutti, siamo in Piatta San Giovanni e abbiamo trovato logicamente la riviera, eccola qua Ora andremo a vedere insieme, ho già letto, l'articolo è ben fatto è una buona presentazione per il gruppo Osservatori su Imperia Ora cercherò di mandare qualche immagine dell'articolo E sì, confermiamo la presenza dell'articolo sulla riviera che ringraziamo L'articolo è chiaro, diche l'essenziale tutto quello che Marco Pesce ha chiesto ai suoi collaboratori La città finalmente avrà più notizie su questo profilo che fa di tutto per denunciare i problemi della nostra bella Imperia Comprate, buona visione e leggete Ciao a tutti Ciao Marco Ciao a tutti